Oggi la questione riguarda la difesa dai droni. Il conflitto in Ucraina ci ha mostrato come sia le forze corazzate che venivano date per finite con la fine della guerra fredda hanno avuto ancora un ruolo centrale nei conflitti e ci hanno dimostrato come la minaccia aerea viene portata anche e soprattutto dall'utilizzo di droni di tipo diverso. Abbiamo visto droni nati per la guerra come i Bayraktar TV2 Turchi abbiamo visto soprattutto però dei droni improvvisati. Praticamente sia gli ucraini sia i russi hanno comprato sul mercato dei droni commerciali li hanno artigianalmente militarizzati sia con granate sia con colpi di mortario addirittura con RPG e li hanno utilizzati in combattimento. I russi hanno cercato di porre rimedio artigianalmente perché la guerra come sappiamo agguzza l'ingegno. Abbiamo visto delle protezioni improvvisate sul cielo delle torrette dei carri addirittura con l'evolversi della minaccia di questi droni tra cui quelli FPV abbiamo visto i carri e mezzi corazzati avvolti da delle reti, da delle protezioni aggiuntive. Questo apre un dibattito molto interessante su quello che è sia l'impiego delle forze corazzate nel contesto delle guerre simmetriche e anche asimmetriche contemporanee sia quello delle forze corazzate e future. Ora termino qui la mia brevissima introduzione introducendovi i nostri ospiti abbiamo alla mia sinistra il generale di colpo d'armata dei lalpini Giorgio Battisti artigliere da montagna diverso artigliere da montagna pardon ho avuto incarichi di comando nelle brigate tridentina uglia terinense ho ricoperto diverse incariche dello stato maggiore dell'esercito ha partecipato all'operazione in Somalia nel 93, in Bosnia nel 97 dal dicembre 2001 al maggio 2002 è stato il primo comandante del contingente italiano della missione ISAF a Kabul da febbraio a giugno del 2003 è stato il primo comandante del contingente italiano in Afghanistan sia per la missione Nibbio 1 nell'ambito dell'operazione Enduring Freedom sia per la missione ISAF capo di stato maggiore del comando delle forze operative terrestri a Verona nel 2011 ha assunto l'incarico di comandante del corpo d'armata di reazione rapida della NATO in Italia dal 2015 è comandante del comando della formazione, specializzazione e dottrina dell'esercito nonché presidente dell'istituto internazionale di diritti umanitari di Sanremo alla mia destra invece abbiamo l'ingegner Cristian Di Biagio l'era in ingegneria delle telecomunicazioni consegue il PhD in MBDA in ambito software in bid inizia la sua carriera in MBDA nella direzione software negli anni ricorre ruoli sempre di maggior rilievo fino ad assumere nel marzo del 2020 la guida della direzione software di MBDA Italia da settembre 2023 ricopre un ruolo di gruppo Head of Force Protection and Battlefield ma anche di Proximity Manager per la direzione Future System Italia ora do subito la parola perché il tempo è tiranno al generale Battisti Devo dire che si è dimenticato della cosa più importante del mio curriculum Il signor fellow dell'istituto Machiavelli Canito tifoso dell'Inter Ecco purtroppo mi hanno messo di fianco un interista io sono milanista Comunque torniamo dalle cose serie penso che chi ci ha preceduto ha parlato già abbondantemente di questo nuovo sistema d'arma di queste nuove armi che sono comparse sul campo di battaglia sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista pratico del soldato quindi cercherò di sollevare qualche altro aspetto diverso perché ho avuto modo in questi ultimi tempi di entrare in contatto con delle strutture che stanno seguendo questi conflitti innanzitutto chiedo una cosa ma sicuramente sfonderò una porta aperta sapete da dove arriva il termine drone? Il ronzio che fa il maschio dell'ape per dire no? Quindi non è una cosa così ma detto questo insomma perché per uno sfoggio un po' di cultura tra l'altro di bassa forza parliamo di questo quello che viene chiamato in ambito anglosassone l'impassibile occhio dal cielo quello che vede può colpire il drone questo è importante i primi aerei pilotati dai primi tentativi nascono già alla fine della prima guerra mondiale poi chiaramente la tecnologia allora era molto limitata ma bisogna arrivare alla guerra tra l'Armenia e l'Azerbaijan dell'ottobre novembre del 2020 dove il drone che era i droni anzi che erano prima utilizzati per attacchi mirati tipo strike e la presidenza Obama-Docet che ha condotto migliaia di questi attacchi mirati nei confronti di obiettivi lippregiati ma erano stati utilizzati prima comunque non sul campo di battaglia come sistema d'arma i droni sono comparsi in questo conflitto e hanno sostanzialmente dato la possibilità all'Azerbaijan che prima aveva sempre subito la capacità militare degli armeni che erano chiamati i prussiani del Kosovo i prussiani del Caucaso scusate di prevalere in questo conflitto con una è stata la comparsa dei droni sul campo di battaglia una sorpresa strategica in campo tattico ci sono tanti filmati che fanno vedere come anche la staticità la staticità delle forze ucraine e armene ha consentito ai droni nelle varie configurazioni di attacco di neutralizzare sia le truppe corazzate sia i vari sistemi d'arma come artiglieria, posti comando e radar quindi la comparsa dei droni come armi o come sistemi d'arma nell'ambito del fuoco e della manovra di un conflitto nel caso convenzionale non risale all'Ucraina ma risale a due anni prima nella guerra tra l'Azerbaijan e l'Armenia come vi dicevo è chiaro che nell'Ucraina poi questi aspetti sono stati ulteriormente sviluppati e ulteriormente raffinati ma come è già stato accennato le contromisure di guerra elettronica dopo i primi non si può dire evidenti e spettacolari successi da parte degli ucraini le contromisure di guerra elettronica russa hanno ridotto sensibilmente questa efficacia oggi da alcuni studi compare che gli ucraini perdono circa 10.000 droni al mese per queste capacità di difesa diciamo a tutto campo da parte dei russi che hanno dei sistemi di guerra elettronica appena dietro la linea di contatto ma sostanzialmente a livello plotone quasi quindi hanno creato quello che è avvenuto anche per i carri armati dopo le prime comparse nel campo di battaglia sul campo di battaglia di Cambremi sembra nel 1917 seconda guerra mondiale poi c'è stata sempre questa eterna lotta carro armato corazza arma contro carro oggi per esempio non si sente più parlare del tanto spettacolare drone il Bayraktar BT2 turco che nei primi mesi aveva fatto aveva tartassato le forze corazzate soprattutto russe tant'era che avevano fatto anche delle canzoni gli ucraini per inneggiare a questo sistema d'arma perché come dicevo prima le capacità di guerra elettronica russe che erano già molto forti durante la guerra fredda sono state ulteriormente potenziate e questo ci deve portare a capire che bisogna sempre più ritengo sviluppare dei droni che siano poi terrestri aerei marittimi il più possibile autonomi non dipendenti da un controllo remoto perché poi se c'è questa possibilità di neutralizzare questo link indubbiamente il drone non può operare col suo sistema ma l'uomo deve essere come si dice non in the loop ma on the loop cioè la possibilità come ultima chance comunque di dirigere il drone ma per cercare di ridurre questa diciamo questa questa dipendenza che come come vi dicevo è diventa sempre più fragile per le capacità che non solo non solo i russi ma anche adesso anche anche gli ucraini ma si vede anche nella guerra sulla striscia di Gaza di comunque di striscia di Gaza e in Libano di neutralizzare questa questa arma che quando è comparsa due anni fa sul campo di battaglia insomma sembrava quella che avesse definito la morte dei carri armati cosa che non è così perché adesso con queste gabbie che prima sembravano anche anche ridicole però se vedete anche gli israeliani li hanno montati sui carri Merkava 4 quindi sono soluzioni poco costose rustiche poco costose ma efficienti ed efficaci detto questo mi avvio lì alla conclusione perché abbiamo pochissimi minuti quello che per la difesa indubbiamente sulla linea di contatto la difesa tattica diciamo oltre a questi sistemi di guerra elettronica quindi soft power poi c'è quindi la hard power per abbattere questi droni perché a volte è successo anche gli israeliani c'è un bellissimo studio delle forze armate israeliane che parla dei limiti della capacità antidrone verso Hezbollah che usano dei missili che costano centinaia di migliaia di euro per battere un drone che magari costa qualche migliaio di euro quindi c'è questo ritorno e so che lo sta facendo anche la mia cara forza armata ma lo dico con tanto affetto a ripristinare i sistemi d'arma contraeri formati con le mitragliatrici quindi i quad quelli da 12 e 7 quadrinate altri armi contro carro scusate contro aeree che erano state accantonate alla fine della guerra fredda perché comunque questi questi droni first person view sono talmente piccoli che è difficile ingaggiarli con un con un missile oltre a essere costoso quindi questo sistema di queste diciamo di reti integrati di armi contraeree a basso costo sicuramente sono quelle che permettono di neutralizzare a livello tattico in certe situazioni sono viste anche i tiratori scelti che hanno cercato di abbattere questi questi droni di piccole dimensioni apro una parentesi voi sapete che sia da parte ucraina che da parte russa ma anche in tanti altri eserciti occidentali questi droni che provengono dal commercio sono della DJI cinese e tutti questi droni hanno all'interno un dispositivo per cui l'azienda cinese che è partecipata dallo stato cinese può controllare questi droni questo bisogna anche tenerlo in mente questo qua come per le telecamere che adesso diversi paesi le telecamere cinesi le stanno togliendo perché si sono accorti che sono tutte informazioni che vanno da da altre parti il 90% di questi droni giocattolo chiamiamo così o quadricotteri sono sono prodotti e sono venduti da questa azienda cinese con questo piccolo particolare c'è una dichiarazione di qualche tempo fa proprio dell'azienda che dice che non si possono togliere perché fanno parte delle come si può dire del sistema che li fa funzionare e chiudo veramente con un fatto prendendo spunto da quello che ha detto l'amico Padano Gaiani e l'amico De Feo stiamo attenti a non diventare troppo tecnologici oggi gli artiglieri parlo per gli artiglieri non sanno più usare la bussola e la carta topografica e la tavoletta quindi stiamo attenti quindi essere sicuramente utilizzare il massimo della tecnologia ma senza dimenticare la rusticità degli equipaggiamenti dei sistemi di addestramento e dei soldati perché come diceva lì Gaiani quale nostro soldato sta mesi e mesi in mezzo metro d'acqua nella trincea interrogativo passo nessuno penso grazie volevo solamente aggiungere una cosa al discorso del generale stiamo anche attenti alla dismissione dei mezzi perché questo conflitto ci ha fatto vedere che i russi hanno ritirato fuori dai magazzini i T-62 i T-54 e i T-55 chiaramente utilizzandoli principalmente in funzione di artiglieria mobile però nulla mi toglie che i nostri Ariete C-1 piuttosto che i nostri Tornado perché no perché debbano essere dismessi e non messi in naftalina come fanno altre forze armate ma siccome il tempo è tiranno lascio la parola a Cristian sì buongiorno a tutti scusate per la voce allora diciamo molte cose sono state già dette per cui oggi cercherò di concentrarmi un po' su aspetti diciamo ingegneristici venendo da MBDA insomma ingegneri missili quindi ci occupiamo di studiare la minaccia e studiare la sua controdifesa e allora prima di tutto diciamo da ingegneri la prima cosa è che modelliamo la minaccia questa minaccia è molto complessa è una minaccia che chiamiamo low end rispetto diciamo alla nostra storia se vogliamo a stare aspetti in cui modelliamo diciamo minacce più complesse questo tipo di minaccia nel dominio come abbiamo detto prima mini small a pochi chilometri è molto complicata molto complessa perché perché i droni sono di tipo due a uso che abbiamo visto prima e alcuni seguono i dettami diciamo di armi di attacco canonici altri no altri sono effettivamente i DJI presi con una granata e arrivano addosso a questo implica diversi aspetti il primo è chiaramente un dominio diciamo che tecnologicamente viene tirato dal mondo civile ok non è più il militare che tira ma questo è un dominio molto tirato dal mondo civile l'FPV viene creato nel mondo dei cellulari poi di fatto e questi droni quindi non arrivano più singoli arrivano in sciamo arrivano coordinati e questo l'abbiamo visto hanno una caratteristica fondamentale sono assolutamente cost effective per la produzione costano poco e quindi se ne possono produrre tanti e vediamo effettivamente la Russia come tante volte insomma ha già annunciato di avere incremento di voler incrementare la produzione chiaramente anche la loro efficacia evolve e qui sta ancora il ritorno sulla difficoltà della modellazione della minaccia i droni di due anni fa non sono più i droni di oggi che è cambiato tante cose sono migliorati hanno diciamo una chiamiamola probabilità di kill cioè la probabilità di effettivamente portare a termine la missione è migliorata è migliorata quindi complessivamente la difesa si trova davanti una sfida una sfida nuova quella di reagire a questa minaccia in tempi rapidi perché come abbiamo visto prima e quantità urgenza sono due driver fondamentali quando servono servivano da ieri ok cosa abbiamo oggi in Italia in Italia vediamo da una storia appunto Aspide Cam Astaire quindi ovviamente dobbiamo diciamo cambiare mentalità andare in una mentalità di tipo agile più snella e questo lo dico in generale nel senso se andiamo diciamo a rafforzarci e quindi anche a esercitare procurement in tempi molto lenti sicuramente per quello che abbiamo iniziato a progettare abbiamo già vecchi quindi i temi diciamo di fast prototyping e produzione di massa sono temi nuovi importanti che dobbiamo diciamo soddisfare nella maniera più brillante possibile a questi si aggiungono nuovi temi per cui sovranità e indipendenza della soluzione come dicevamo se i droni vengono fatti tutti in Cina questa diciamo verticalità è più complicata quindi dobbiamo lavorare su una filiera nazionale una filiera che arriverà fino a un certo punto perché ovviamente non tutto viene prodotto in Italia quindi a un certo punto si interrompe ma garantire sempre la piena diciamo sovranità e autonomia della soluzione quindi qual è la sfida? La sfida è quella di rispondere efficacemente velocemente e quindi rapidamente alla minaccia che evolve e avere sistemi che sono famiglie di sistemi non c'è più la singola arma contro il singolo contro il singolo attacco bensì una famiglia di armi quindi parliamo di intercooperazione tra sistemi di tipo hard kill canoni sui missili se vogliamo ma anche soft kill laser sistemi contromisura in radiofrequenza jamming mitragliette tutto ciò che aiuta e allarga la famiglia della contromisura e questo deve essere coordinato a livello di sistema che si dico sistema paese sistemi industrie e poi ovviamente sistemi delle armi diciamo di difesa ok so che il tempo è tiranno mi fermo qua così apriamo un attimo il dibattito perché ci hanno dato dei tempi stretti teniamoci colpa di ci hanno terrorizzato sui tempi quindi adesso faremo velocissimamente io volevo fare una domanda a entrambi poi magari se avanza il tempo lascerò anche la domanda da parte del pubblico allora una delle una premessa una delle criticità che è stata vista in questo conflitto in Ucraina per le forze per le forze armate ucraine è stata oltre alla quantità dei sistemi da difesa aerea con questo intendo sia i sistemi missilistici sia i Pecchi Trip Away è stata anche la quantità e qualità dei sistemi di electronic warfare Cristian giustamente ha citato i casi di sciami di droni se immaginiamo questi sciami di droni come ci hanno fatto vedere i cinesi tante volte lavorare in modo coordinato perché lavoranti tramite intelligenza artificiale quindi colpire a sciame forse le questa coordinazione che citava Cristian tra i sistemi cinetici quindi hard kill che siano essi pesanti o leggeri ma l'electronic warfare diventa proprio la sfida non del futuro ma del presente e quindi chiedo da una parte da una parte diciamo tecnicamente a Cristian cioè come si affronta come l'industria MBDA affronta questa nuova sfida per il futuro e poi al generale come questa sfida viene presa in carico a livello diciamo più dottrinalmente da parte delle forze armate Cristian ok allora esistono diciamo diverse soluzioni partiamo sicuramente dal coordinamento come diciamo prima any sensor best shooter questo in MBDA si chiama effect management system è un c-quadro quando il controllo è di tipo con architettura distribuita aperta a servizi come concetto tale che può connettere sistemi eterogenei questo è un primo asse assolutamente importante quindi la modularità quindi la possibilità di utilizzare sistemi sia stand alone ma sia interconnessi in bolle bolle che possono avere diverse dimensioni e diversi diversi size quindi questo è il primo tema per cui questo apre poi il tema anche del multidominio del multieffector ed è fondamentale quindi avere un coordinamento avere anche un sistema diciamo che possa aiutare l'operatore a scegliere la migliore soluzione di ingaggio e questo è importante lato effetto resistono diverse soluzioni come diceva prima il generale c'è un potenziamento italiano su sistemi mini micro ma anche probabilmente medium speriamo cioè quindi dotarsi di contromisure di loading munition e queste sono le canoniche se vogliamo diciamo hard kill insomma quelle che poi possono essere pesanti o meno pesanti come il bushroad più pesante le loading meno pesanti l'altra cosa è sicuramente il mondo dei soft kill quindi il mondo dei soft kill in particolare in MBDA anche gruppo avrete visto l'utilizzo del laser sulla parte delle navi ci sono studi per quanto riguarda la contromisura di potenza radiofrequenza e questi oppure droni di tipo hard kill quindi senza test in guerra o anche test in guerra che danno che disattivano i sciami tramite delle polveri esistono diverse tecnologie abilitanti a basso costo sempre perché siamo in questo dominio qua ecco la cosa importante è che tutto deve essere cooperante quindi modulare e ricordo che come esigenza operativa abbiamo sia il mounted che il dismounted quindi abbiamo sia sistemi fissi ma sia sistemi mobili a copertura di truppe in movimento quindi quel livello di modularità interoperabilità quindi plug and pre plug and fight diventano realtà che non sono più diciamo dei sogni ma realtà e questo è quello su cui sta lavorando in MBDA dal punto di vista dell'impiego operativo è chiaro che si sta ancora come si può dire studiando questo fenomeno adesso l'ultimo attacco che hanno fatto circa due mesi fa gli iraniani contro Israele loro hanno operato secondo le esperienze russe che gli hanno comunicato questo per dimostrare questo link stretto tra l'Iran e la Russia c'è un'interessante relazione delle forze armate israeliane che spiegano che senza il supporto di attori esterni alle proprie difese non sarebbero state capaci di diciamo di neutralizzare più del 99,9% di queste minacce indubbiamente adesso agganciandomi a quello che è stato detto io ritengo che la cosa più importante sia il comando e controllo per poter scaglionare alle varie distanze questi sistemi di difesa antidrone e io aggiungo anche antimissili perché se Sbola lancia a 150.000 missili da quello che si dice puntati su Israele basta che ne lanci 10.000 contemporaneamente e i sistemi antiaeri di Israele vengono saturati è quello che ha tentato di fare l'Iran quando ha lanciato primi droni più lenti poi quelli più veloci poi missili per saturare e neutralizzare le capacità quindi ritornando e chiudo la cosa più importante è essere consapevoli di questa minaccia cercare di utilizzare tutte le misure soft hard vogliamo anche quelle tradizionali come dicevo prima dei SIDAM dei GEPART quindi queste mitragliatrici contraere per creare questa barriera mobile alle varie distanze ed è l'unica soluzione ma bisogna essere consapevoli e soprattutto il comando e controllo che sappia poi gestire questa serie di dispositivi abbiamo già una domanda prego bene allora non vorrei fare la solita retorica del dinosaurio perché veramente però sono stato stimolato dal generale Battisti che è appunto un artigliere da montagna e ha parlato del problema della bussola della tavoletta 25.000 io aggiungo la carta spediva di tiro per i carristi eccetera eccetera allora questa in termini appunto capacitivi bella del termine della difesa contraerea spiegati che sei un attimo ah Gianluca Scagnetti giornalista mi ha fatto perdere il filo mannaggia la difesa contraerea appunto nei confronti di questi velivoli a pilotaggio remoto questi droni che bisogna tornare al SIDAM addirittura che pare non ce ne siano più o comunque a queste quadrinate e al il fuciliere che spara va bene ma io ricordo ormai un po' che manco perché come vedete ho il bastone nei teatri operativi fino a 14 anni fa 15 anni fa gli ufficiali della contraerea quelli che uscirono da Sabaudia erano finiti praticamente tutti quanti a fare una cosa che era una via di mezzo tra il SIMIC e le attività del G2 quindi raccoglie un'informazione in borghese tipo in Kosovo non ricordo l'acronimo adesso però c'era una cellula quasi tutti là dentro e Sabaudia era sostanzialmente animizzata c'erano non so 4 o 3 3 allievi poi adesso sarà cambiato come ricostituire questa capacità visto che la bussola adesso esagero provocatoriamente la bussola non la usano più la catasperitiva non la sanno usare riduco e però bisogna ricostituire in massa questa capacità di contrasto dei droni grazie io penso che sia già stato detto comando e controllo e poi essere consapevole di tutti questi sistemi anche i più semplici i più antichi chiamiamoli così che servono per ridurre questi eventuali attacchi a sciamo in suono ma non è che ci siano altre soluzioni il generale Camporeale durante la sua esposizione aveva fatto vedere una diapositiva che mostra quella che è diciamo la postura una sorta di strati cioè la difesa layered quindi tutto questo gli americani lo stanno facendo lo stanno facendo con sistemi a energia diretta lo stanno facendo con sistemi di hard kill quindi la strada deve essere quella l'integrazione l'interoperabilità tra direct energy weapons e sistemi di hard kill siano esseri missilistici oppure di artiglieria chiaramente questo impone una sfida perché noi non ne facciamo più i sistemi artiglieristici però io volevo esatto e poi c'è anche la questione non solo dell'interoperabilità quello che dovrà essere l'intercambiabilità perché è un conto l'interoperabilità io riesco a operare con altre forze armate di altri paesi un controessere intercambiabile cioè il mio sistema preso così com'è che sia con equipaggio che sia senza deve essere esattamente lavorare esattamente nello stesso modo all'interno di un'altra forza armata alleata che non è semplice ma io volevo visto che qui abbiamo un auditorio molto specializzato e riprendendo le parole del direttore Gaiani attenzione a non seguire troppo le mode perché noi arriviamo da 20 anni di counterterrorism e counterinsurgency abbiamo dimenticato le forze pesanti le brigate pesanti sono state ridimensionate si parlava solamente di brigate medie leggere early entry cosa facciamo qui cosa facciamo di là adesso il conflitto in Ucraina ha riportato l'attenzione sulle forze pesanti attenzione a non dimenticare i conflitti asimmetrici perché va bene pensare oggi alla Russia magari un domani alla Cina ma dobbiamo dimenticarci il nostro intorno il nostro intorno è fatto da conflitti asimmetrici quindi la concentrazione deve essere sui due fronti quindi attenzione a non prendere a lasciarsi sedurre dalla moda adesso di voler rifare le brigate pesanti forze corazzate dimenticando quello che è tutto quelli che sono stati 20 anni di attività dei counter-terrorism se c'è un'altra domanda dal pubblico abbiamo 5 minuti vedo due mani alzate 3 primo la in fondo sarò rapidissimo parlando di guerra convenzionale studente università di padua e giornalista per il giornale dunque volevo gentilmente chiedere quando è iniziato il conflitto russo-ucraino una delle prime azioni messe in essere dalla federazione russa è risultato un first strike finalizzato a disabilitare la difesa aerea ucraina e a distruggere l'aviazione di Kiev ok e fa seconda della lingua che si vuole usare ecco gli ucraini sono riusciti ad evitare questo in parte perché il first strike russo è stato eseguito in maniera completamente errata in parte perché si sono rivelati molto abili nel disperdere i propri asset quindi munizioni di artiglieria antiaerea eccetera copiando un po' quello che è lo schema di Taiwan nell'overall defense concept in Italia laddove si trovassimo in uno scenario come quello ucraino siamo preparati ad un'operazione di questo tipo o un first strike potrebbe essere per noi un colpo molto pesante chiarissimo c'era un'altra domanda qui la raccogliamo tutte poi rispondiamo due domande se non sbaglio addirittura sono il generale Di Leone direttore degli armamenti terrestri quindi segretariato generale della difesa volevo fare una considerazione che in realtà esce un po' da questo panel però perché ci stiamo avviando più o meno alla conclusione di tutta la giornata volevo mettere l'accento su due cose una molto semplice però fa riflettere le nostre forze armate alcune unità stanno anche approvigionando dei fucili da caccia perché contro i droni piccoli possono essere efficacissimi a brevissima distanza e permettere di interrompere la missione del drone e costano niente quindi con pallini da caccia e fucili calibro 12 col cinghiale già ci vuole una pallottola più corposa e più costosa però ci vuole più precisione mentre invece insomma con una strozzatura adeguata un fucile da caccia è efficacissimo quindi tenere presente che la risposta flessibile che si è sempre parlato in passato vale anche per queste piccole cose e la seconda cosa invece a carattere più generale prendo spunto dal curriculum del generale che ha detto artiglieri da montagna e mi sembra che nella giornata di oggi abbiamo dimenticato l'artiglieria che rimane comunque uno strumento potente di forza ancorché di saturazione ma oggi a munizioni di precisione ci sono tante cose che in Italia abbiamo completamente dimenticato quindi sia per la capacità di produrre canne che non abbiamo abbiamo parlato rapidamente della mancanza di esplosivi per costruire le munizioni ma in realtà non siamo in grado neanche di costruire le canne e quindi chiudo solo come omaggio il generale Battisti che stimo pur non conoscendoci di persona ma io sono napoletano però quindi ho ceduto lo scudetto alla generale però volevo dire questo anche l'artiglieria da montagna non se ne parla da decenni abbiamo smesso i pezzi chiudo qui in generale le domande c'è un'altra domanda? c'è un'altra domanda sì? prego mi scusi prego colonnello Scuricini sono attualmente retired lavoro al NATO Defense College la mia domanda è velocissima abbiamo parlato di droni di aviazione ma sono utilizzati sono stati utilizzati soprattutto dagli ucraini anche droni marittimi e droni terrestri contro questi veicoli si sta sviluppando qualcosa per contrastarli o no e generale Battisti dico solo che il signor Mauri è circondato perché anche io sono interista allora generale andiamo per ordine rispondiamo alla prima la prima domanda la prima domanda l'Italia è preparata nel caso la prima domanda consiglio di andare sul sito della Nato che è spiegato come come è nato questa 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 difesa antimissile che comunque si sta ancora integrando poi alcuni aspetti penso che ne sappia più più già nel campo camporeale di me ritengo che comunque sin dai tempi io mi ricordo il capo di stato maggiore della difesa nel 2020 in una audizione in Parlamento ha sottolineato il fatto che l'Italia doveva rinforzare la propria capacità di difesa antimissile in generale e ritengo che diciamo che si stia andando in questo diciamo in questo senso anche anche grazie alla ricerca dell'industria poi detto così inshallah come si dice bisogna vedere poi cosa cosa succede molto diciamo dipenderà anche dalla nostra capacità di intelligence di prevenire queste eventuali azioni eventualmente di reagire prima con la pre-entive è stata l'intelligence anglosassone aveva permesso esatto agli ucraini di parare il colpo se non ci fosse stato quello l'intelligence sarebbe finito sì io volevo rispondere invece all'ultima domanda poi per la seconda la girerei a livello tecnico a Cristiano perché la risposta flessibile diventa molto interessante da questo punto di vista sì dal punto di vista counter per UAS navale bisogna vedere quello che stanno facendo americani e inglesi si punta sia a sistemi di hard kill banalmente stanno tornando le mitragliatrici a bordo delle unità navali ma soprattutto si sta puntando sulle direct energy weapon che possono essere sia laser ma soprattutto attenzione le armi a microonde perché sono quelle in grado di disabilitare il sistema navale drone navale in arrivo in una bolla che chiaramente diventa rischioso perché un laser ha un'agitata maggiore il decadimento dell'energia elettromagnetica delle microonde è se non siano potenze adeguate è molto più rapido rispetto a un laser però la strada la strada è quella Cristiano? Sì diciamo qualche parola diciamo sull'aspetto tecnico chiaramente eh ci sono due argomenti per quanto riguarda il multidominio dei droni eh se la minaccia è multidominio quindi abbiamo minacce in aria minacce a terra minacce di nave oppure il drone viene lanciato da aereo a terra nave ok sono due diciamo dimensioni diverse o sottomarino perché c'è anche questo esatto come 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 piattaforma quindi allora sicuramente le le soluzioni hanno delle larghe parti di contatto ok quindi quando prima dicevo parliamo di famiglia di prodotti è perché questi prodotti hanno sono sviluppati come delle product line cioè hanno una parte comune mentre poi si specializzano caso per caso per cui effettivamente la risposta è sì in quanto sono modulari e devono poter soddisfare diverse esigenze abbiamo ampiamente recuperato mi sembra la tempistica mi sembra di sì io ringrazio i miei graditi relatore di oggi e ringrazio voi per l'attenzione per l'attenzione e l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione Autore dei sovrapposti